Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Paolo e Letizia sono stati due dei personaggi principali del Grande Fratello. La loro ultima apparizione televisiva è stata pochi giorni fa a Verissimo, dove sono stati intervistati da Silvia Toffanin. In particolare, Paolo è stato oggetto di critiche sui social, con commenti negativi che non hanno risparmiato. Mai piaciuto, troppo protagonista, falso buonista, vuol fare vedere di essere quello che secondo me non è. Ma ci sono anche coloro che lo difendono, ma cosa dite, è un ragazzo dolcissimo, con tanti valori, svolge un lavoro importante che bisogna saper fare, cosa volete di più è bravo. Per lui e la fidanzata Letizia, è ora di iniziare una nuova vita lontano dalla TV, ma attenzione, voci di gossip dicono che nei giorni scorsi, sembra che abbiano ricevuto un rifiuto da una produzione importante. Sembra che Letizia e Paolo abbiano provato ad entrare nel cast dell'Isola dei Famosi 2024, ma i loro nomi non ci sono. Forse entreranno a gioco in corso? Chissà. Il cast, si sa, è pronto da tempo. E voi, che ne pensate, vi piacerebbe vedere Paolo e Letizia nell'Isola dei Famosi? Esprimete la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.